Martedì 15 ottobre 2019. Mancano 77 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Teresa. Il nome ha origine greca e significa cacciatrice. Il numero portafortuna è il 7, il colore l'arancione e la pietra associata è il berillo. Accadde oggi. Il 15 ottobre del 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario. Vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Il calendario gregoriano è oggi il calendario ufficiale della maggior parte dei paesi del mondo. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo lo scrittore Italo Calvino, nato a Cuba il 15 ottobre 1923. Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo novecento. Le frasi del cinema. Lei ha il grande dono del silenzio, Watson, e questo la rende un compagno inestimabile. Dal film Sherlock Holmes. Proverbio del giorno. Per educare un bambino occorre tutto il villaggio. Proverbio del Kenya.